Ciao a tutti ragazzi, questo è il nostro canale, sono Jackie Siamo arrivati su un video di Minecraft sul calcio Cattetto! Non è vero, siamo su calcio challenge, sono molto euforico, sono veramente un po' Oggi ragazzi siamo sulla 3 step challenge, l'ho inventata io, nessuno l'ha fatta in YouTube Qua c'è mio fratello, che è il mio fratello Questa 3 step challenge consente di tenere tre tipi diversi di challenge, sono il crossbar Il primo step è la normale, è bene, da un chilo di ruolo con una passata E il terzo è una corona passata, nel ruolo con un zero Praticamente la vita di potenza, è per uscarsela da solo, e non è vero E non è vero E non è vero Comincia subito mio fratello, e aspettiamo, vediamolo subito cosa fa, vai! La voglio prendere tu adesso Coglione Coglione Croft Ohhhh scoglione Ohhhh scoglione Ohhhh Ohhhh Si no vale Si no vale Ohhhh Noi, 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 noi. Noi, 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 noi. Noi, 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 noi. Noi, no, no, no. Noi, no, no, no. Noi, no, 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 no. Noi, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ma dice che non funziona, perciò crossbar normale metto io questa volta tiro da 30 metri se azione crossbar è per te è per i motoristi crossbar 3 2 1 ora la soluzione è se lui attraversa e io sbaglio o io faccio attraverso e lui sbaglia ho vinto io, vince lui è stato sbagliato prendiamo vai secondo tentativo solo perchè ho fatto è giusto, mi è entrato ha, ho sentito un rumore di traversa ma non l'hai presa no, prenda di più muoviti e adesso riprendo la traversa? non voglio guardare buonanotte un applauso solidarietà un applauso per solidarietà attenzione arriva troppo alto e cacchio da me ho no non ho la mia ma prenderla no muoviti prima adesso si sbagli penitenza 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 sei teso? voglio ci sentire prima impressione prenderai la traversa? no e volevi guarda che faccia guarda che faccia non se l'aspettava ah non stavo registrando lo sai? ah 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 si scusa parco sto andando no 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 è tutto pronto eccezionale sto pronto per l'inizio no 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 Allora, aspetti, cosa gli dice? Eh, sembra... Pronto? No, no, però... Un attimo di concentrazione No, aspetta, aspetta Scusa, veniva l'ultima parola 1, 2, 1 Ehm, cosa dice di questa... Rifrescante Io direi che per questo video può essere tutto Noi ci siamo divertiti abbastanza Spero che anche voi vi siete divertiti Spostati che sono meno sguardo Tu sei asciutto? No, no, io no Vi ricordo che sei... Io? Sì, l'hai detto, l'hai detto Sì, l'hai detto Comunque vi invito a lasciare un bel pollice In su, iscrivervi al mio canale Se l'avete ancora fatto Lui si è divertito Si è anche fatto la doccia Io sì E noi ci vediamo al prossimo video Bella raga Chiuditi